Musica Febbraio fortunatamente è passato, o quasi, domani è marzo, il ciclo di ferro in trasferta non ha portato a alcun punto, possiamo dire che domani comincia un nuovo campionato per Messina? Ce lo auguriamo, io penso che il ciclo di ferro sia da qui alla fine del campionato, dispiace aver perso, anche se abbiamo giocato contro squadre importanti, però io penso che la mia squadra non sia inferiore a nessuno, e quindi sono stati i punti pesanti che abbiamo perso, adesso ci ritroviamo, anche se è un po' di tempo che viviamo in quella zona di classifica, a dover far punti obbligatoriamente. Quindi domani dobbiamo fare la partita perfetta per portarla a casa, sappiamo del valore degli avversari, ma siamo anche consapevoli di quello che possiamo fare, dobbiamo mettere dentro tutte le componenti. Ecco, domani non sarà una passeggiata ripartire contro questa Juve Stabia, però la conforta è il fatto che sia una squadra forte, ma che lascia anche giocare l'avversario. Sì, sì, noi conosciamo pregio e difetti, l'abbiamo visti abbondantemente in settimana, lo rifaremo anche stasera, sappiamo quello che possono fare loro e quello che possiamo fare noi, quindi dicevo prima, dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere bravi a trovare tutte quelle componenti che ci devono permettere di portare a casa i tre punti. Corona ha detto nei giorni scorsi che dovremmo fare la partita, dovremmo cercare di non far giocare la Juve Stabia, quindi ci dobbiamo aspettare un messina d'attacco già dai primi minuti? La nostra impostazione, o quantomeno la mia impostazione, è sempre quella di fare la partita, poi a volte ci riusciamo, quest'anno spesso non ci siamo riusciti per tante situazioni e domani ci auguriamo di farlo, di essere propositivi con la palla e cercare di creare quello che sappiamo e cercare di essere aggressivi. È una squadra che non va affatto a giocare, soprattutto in mezzo al campo, hanno grande qualità. Davanti poi, secondo me, finalizzano bene il lavoro che svolgono soprattutto i centrocampisti. È una squadra fisica, è una squadra che ha centimetri, che ha peso, però tutto questo dobbiamo averlo anche noi, ma soprattutto dobbiamo avere la mentalità giusta. E poi siccome questa squadra ormai ci ha abituato dall'inizio a essere discontinua, se domani ci possiamo aspettare un messina positivo, propositivo e positivo? Tutti i propositi, come tutte le vigile delle partite, sono sempre quelli di giocare, di creare, di non subire. Poi ci sono gli avversari e a volte riesce a farlo, a volte no. Ripeto, da qui alla fine è un ciclo di ferro tutte le domeniche, quindi dobbiamo far punti per tirarci fuori da questa situazione e per salvarci in maniera diretta. Ecco, sulle condizioni di Mancini che in settimana non è stato bene e poi sul discorso del portiere che le permetterà di poter alzare l'età in mezzo al campo. Per quanto riguarda Mancini non è convocato perché è fermo da martedì quando abbiamo ripreso, ha subito una botta e quindi è fermo, speriamo di recuperarlo la settimana prossima. Per quanto riguarda il portiere, lo dicevo prima, si è sempre allenato con grande scrupolosità, è un ragazzo attento, è un ragazzo applicato. E quindi sotto questo punto di vista siamo tranquilli. Buongiorno mister. Buongiorno. Lei che ha spesso il polso dello spogliatoio ha avvertito una tensione particolare della partita da non sbagliare da parte dei suoi ragazzi. No, perché la tensione è sempre alta, la concentrazione è sempre alta, lavoriamo sempre sui ritmi alti e sull'applicazione, quindi non è cambiato niente rispetto alle altre settimane. Certamente sappiamo che le partite diminuiscono e dobbiamo fare punti per arrivare all'obiettivo. Non possiamo più vivacchiare, parlo soprattutto a livello di punti e quindi dobbiamo, come dicevo prima, avere tutte le componenti alzate al massimo livello. Poi guardando un attimo al passato. Lei mercoledì, quando ti siamo incontrati, ha analizzato alcuni episodi che hanno fatti in modo che si grasse questa stagione un pochettino così negativa, accennata ad esempio agli eventi di Martina, di Salerno o con la Lupa Roma. Hai avuto invece la sensazione che questa squadra non abbia saputo dare continuità e sfruttare al meglio i pochi momenti positivi che invece ci sono stati? Mi vengono in mente ad esempio le vittorie nei derby oppure la partita col Savoia? Io parto sempre da un presupposto importante che sono gli episodi che poi determinano una partita. Perché se noi andassimo a rivedere la partita con la Regina a primo tempo c'è stato il tiro di Insigne che ha sfiorato il palo e le azioni successive abbiamo fatto con noi. Poi siamo stati bravi nei primi minuti a fare un 1-2 importante e abbiamo chiuso la partita. Ho tirato fuori quei tre casi in settimana di Martina, di Salerno e della Lupa Roma per far capire che al di là dei gol che abbiamo preso al 95esimo quando si vinceva, dei calci di rigore che abbiamo preso quando si vinceva lo stesso, dei rigori sbagliati. Quei tre episodi fanno capire che è stata fino a questo momento una stagione veramente sfortunata. Però dobbiamo scrollarci di dosso tutto questo e mettere in campo qualsiasi cosa in più ci possa permettere di arrivare all'obiettivo. Certamente si poteva fare di più, questo lo sappiamo anche noi, abbiamo una classifica deficitaria per tante occasioni che abbiamo perso. Se siamo lì sotto, anche se involontariamente, potevamo fare sicuramente qualcosa in più. Buongiorno, Ministro. Buongiorno. Su Spiridonovic, dal punto di vista del tattico sei soddisfatto della sua crescita? Sì. Sono molto soddisfatto della sua crescita, è arrivato che ancora non era in una condizione ottimale, era stato fermo qualche giorno e da un punto di vista soprattutto del ritmo era in difficoltà. Ha fatto dei buoni 60 minuti a Lecce, è un giocatore che ci permette di avere accelerate importanti, deve migliorare sotto un punto di vista tattico, ma è un ragazzo quindi avrà tutto il tempo per crescere. Mi porto dietro due dubbi, uno dietro e uno davanti e sceglierò con calma, ho ancora una giornata di tempo. Sempre su un singolo, su un negro, a che punto è dal punto di vista fisico? Anche perché la Juve Stab è una squadra molto fisica e lui è un giocatore che può darle una mano. Sì, sì. Mi auguro di dover ricorrere al negro domani, vuol dire che le cose stanno andando per il verso giusto. E' chiaramente lui in grande ritardo di condizione, è rimasto fermo due mesi e mezzo. Domenica, lunedì a Lecce, l'ho impiegato 20 minuti, ha fatto un po' fatica, però è un giocatore che dobbiamo recuperare assolutamente al più presto. Buongiorno Mister, ci aspettiamo Ciciretti in mezzo al campo. Può darsi, era uno di quei dubbi che è legato poi al reparto d'attacco. Un altro dubbio me lo porto dietro. Quindi voglio valutare ancora, ripeto, ancora una giornata a disposizione e voglio decidere con calma. Può essere l'occasione giusta Mister, visto che manca Giuliano e manca anche Mancini, di vedere Corona e De Paola per un discorso anagrafico. Sì, sì, è legato a quello. Hanno fatto bene quei 20-25 minuti che hanno giocato insieme a Lecce e dobbiamo cercare, volendo, di poterli utilizzare anche insieme durante il campionato. Quindi adesso abbiamo anche il rientro di Pepe che rientra dalla squalifica, il rientro di Nigro che sta pian piano recuperando. Quindi ho una rosa a disposizione che mi permette di valutare tante cose. Vorrei dirle bentornato, nel senso che finalmente ci rivediamo anche prima delle partite. Con piacere, con grande piacere. Mi è sembrato, noi raccogliamo in pieno l'appello, anche poi non ce ne era neanche bisogno perché noi siamo stati sempre dalla parte del Messina, quindi automaticamente di Grassadona, del Presidente, eccetera. Ecco, io mi sono permesso giorni fa a fare una riflessione su questo fatto delle chiacchiere. Ecco, quando lei, prima della partita di Lecce, ha parlato di chiacchiere, a cosa si riferiva? Alla stampa o un po' a tutto l'ambiente, società comprese? A tutti. Quindi quella decisione, perché lei ha precisato, e questa è una cosa importante, è costruttiva. Se ho qualcosa da dire la dico al diretto interessato. Quindi se avessi avuto qualcosa da dire, l'avrei detto. Io dico che in generale non bisogna sparare nel mucchio e penso che bisogna unirsi, bisogna ricompattarci tutti quanti insieme. Quindi sono convinto che solo così possiamo arrivare all'obiettivo. È un momento di difficoltà. Quindi crede, costruttivo, io lo ritengo, perché è un po' di esperienza da diversi anni, che comunque più ci si parla e meglio è. Riflettendo insieme, senza sparare accuse, dicendo che comunque questa squadra ha dei limiti, che Grassadonia lo sa, la società probabilmente anche. Lei è d'accordo su questa valutazione, cioè di semplificare tutto con un limite caratteriale? Perché è troppo facile. Io prendo dei calciatori con dei limiti tecnici, poi invece hanno grandi doti caratteriali e diventano dei Maradona. Cioè basta questo per vincere le partite? Ma io penso che è innegabile che se siamo lì abbiamo dei problemi. Adesso possono essere a volte caratteriali, a volte individuali, a volte collettivi. A volte, voglio dire, ho citato quelle tre partite durante la settimana per far capire la negatività di quest'anno. Però in tutto questo dobbiamo, secondo me, al di là di quelle che sono le chiacchiere, e mi riferivo a questo, di andare avanti e di cercare di arrivare a salvare il Messina, che penso che sia l'unica cosa importante. Su questo non c'è dubbio. Poi voglio dire, i giocatori vanno via, l'allenatore va via, è importante anche per la società, cercare di essere ripagata dei sacrifici fatti e di non cercare il colpevole, perché gli errori purtroppo si fanno, li commetto io, li commettete voi, li commette il giocatore, li commette la società, sono all'ordine del giorno. Io penso che tutti operiamo per fare il meglio. state certi di una cosa, che io non ho improvviso niente, mai, perché odio l'improvvisazione. Ecco, quest'altra cosa, quest'altra frase è l'improvvisazione. Qualcuno di noi, o meglio, ha detto ai lavori, ha parlato di un grassatore che inventa le formazioni. Probabilmente qualcun altro lo ha detto, noi no. Io, quello che vi posso dire, che anche... Perché quando si parla di esperimenti sono finiti, lei ha sentito la dichiarazione del direttore, insomma, quelle sono dichiarazioni che fa la società, basta con gli esperimenti. Gli esperimenti significa improvvisare. Io penso che ognuno poi si assuma le responsabilità. Se lei parla dello specifico dell'intervista di Vincenzo Lomonaco, io l'ho letta, certamente non sono d'accordo, ma ognuno è libero di dire ciò che vuole. Io, quello che posso dirvi, è che le mie squadre non improvvisano. Mi piace giocarmi le partite, gioco le partite per vincere e non per aspettare lo schiaffo per poi reagire. Bisogna anche capire il momento della squadra, quello che la squadra ti può dare in quel momento, quello che puoi mettere in campo. I punti sono importanti e quindi le partite sono sempre di meno e bisogna capire quello che è il momento, quello che la squadra avversaria ti propone. La Gasertana giocava con quattro attaccanti, ho preferito mettere un difensore in più, ma si è vinto un campionato, sono un 3-5-2. Poi dipende tu come vai a interpretare quello che è il modulo. Dipende anche dagli uomini che hai. Lo scorso anno lei faceva il 3-5-2 con un altro tipo di parco giocatorio. Cerchi di fare il massimo con quello che hai a disposizione. La squadra ha delle qualità e bisogna cercare in questo momento di tirare fuori il massimo dalla qualità che ha questa squadra. Ha delle individualità che cerchiamo di mettere in vetrina per il bene del Messina e ha delle lacune e sappiamo quali sono queste lacune. È importante aver recuperato giocatori che possono tornarci utili. È importante che la società mi abbia dato a lei, c'è la possibilità anche di uscire un attimino da quello che è l'età media e di avere maggiore libertà di scelta che ho sempre avuto. Ogni volta ho chiesto qualcosa alla società sono sempre stato accontentato sotto questo punto di vista. Chiudo subito l'ultima su una cosa che comunque sono d'accordo con il Presidente. Noi troppe volte, soprattutto in casa, abbiamo sbloccato il risultato e non riusciamo a gestire anche l'esiguo vantaggio. Lì ci vuole un po' di esperienza, un po' di malizia, furbizia nell'addormentare la partita, nel fare nervosire l'avversario. Invece noi abbiamo dilapitato dei vantaggi. Se noi domani dovessimo, speriamo, riuscire a sbloccare noi, cambia un po' la partita. Abbiamo la possibilità? I ragazzi sanno come si fa in campo per poter congelare il risultato? Lo sappiamo, non è che non lo sappiamo, a volte non riusciamo. Poi le componenti che dicevo prima che domani devono essere al massimo, qualche volta sono venute meno. Vuol dire che abbiamo dei problemi, se noi abbiamo quella classifica abbiamo dei problemi. Però abbiamo anche tanta voglia, tanto entusiasmo e soprattutto abbiamo tanto amor proprio da capire la difficoltà. Siamo convinti di venire fuori. Di questo ne siamo convinti, sapendo che il percorso passa attraverso difficoltà. Adesso ogni partita per noi diventa una finale. Sappiamo che domani non è una partita decisiva, perché non è decisiva, ma è importante, soprattutto a livello mentale, a livello di morale, è importante fare risultato. Poi ci sono anche gli avversari. Speriamo domani di fare la partita perfetta, perché domani per vincere devi fare una partita perfetta. È chiaro che ci auguriamo di passare in vantaggio e poi di avere la personalità di gestirla, di portarla avanti, di andare a fare il secondo. È sempre decisa però la partita dagli episodi. Dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte, gli episodi, che purtroppo quest'anno ci sono andati sempre contro. E quando sono stati dalla nostra parte non siamo stati bravi a gestirli nella maniera migliore. Non parlo, sapete, degli arbitri preferisco non parlare. Non preferisco non parlare. Ognuno si fa le sue ragioni e guardiamo avanti con fiducia. Bisogna guardare avanti con fiducia e cercare di fare punti. Una battuta anche sul Master al quale sta partecipando. Abbiamo visto che è stato anche ospite con gli altri allievi di Sarri, dell'Empoli. Penso sia un'esperienza molto stimolante. Sì, però non riesco mai a godermi queste uscite con il Master. Perché quando le cose vanno male è chiaro che diventa pesante. Poi preferirei rimanere qui, lavorare con i ragazzi. Comunque sono due giorni, sì, che ti accriscono. Però in questo momento è preferibile rimanere con i ragazzi e cercare di lavorare con i ragazzi. E' un percorso bello il mio, però ripeto in questo momento la mia priorità assoluta è il Messina. Vi sta condizionando il manto erboso del Celeste che è in condizioni non ottimali? Perché peraltro, così da profano, però mi sembra di aver capito che sia Mancini sia Benvenga sia Bonanno hanno avuto problemi ai tendini. Non so se è riconducibile. Dobbiamo essere bravi anche ad andare avanti così. Speriamo insomma di arrivare al 10 maggio, quando finisce il campionato. Al 10 maggio poi la società ha le idee chiare su quello che sarà la disposizione per l'anno prossimo. Sta lavorando su questo. Speriamo insomma di arrivare al 10 maggio.